L'OCS certificato organico è la base di questo strano, proposto in NM 6.1, per essere lavorato su 7 gauge. La sua mano sceglia e luce, ottenuta dagli piccoli movimenti della sua construzione, rendono il protagonista del knitwear, per essere usato proprio dopo i tempi freddi, per essere proposto in colori solidi, ma anche in lembretto, da tecnici di prigione, con un effetto di camuflazione. All'interno è possibile offrire un tag tag, informando ai nostri clienti che è fatto da materiali organici. Questa linea è proposta in linea dyed, con un card, indicando le colori pronti per la sampling. Mentre per colori custom, necessitano un minimo di 14 kg per la produzione.